Io penso che gli stilisti dovrebbero avere un modo di creare che è improntato verso la bellezza, perché la bellezza è qualcosa di importantissimo per chi la guarda. Noi facciamo un lavoro che comunque ha delle grandi responsabilità, nel senso che quello che noi proponiamo spesso viene anche imitato, riprodotto e influenza il gusto collettivo. Quindi è fondamentale che le persone che osservano, gli osservatori, abbiano un'idea chiara di quello che è la bellezza, perché la bellezza è la cosa più importante. Sicuramente l'aspetto artigianale delle collezioni, perché sono tutti abiti fatti esclusivamente a mano. Poi un altro punto fondamentale per me è dare potere alla donna tramite la bellezza e l'immagine, quindi impreziosire la donna come se fosse un gioiello da pastrella, con dettagli delicati su silhouette visivamente potenti. E oggi come vedi il ruolo della donna all'interno della sua? Sicuramente va mutando, si va adattando anche a quella che è la società di adesso, finalmente abbraccia uno spettro un po' più ampio, quindi ogni donna può ritrovare tramite la propria personalità il suo punto di forza, o meno nel campo della moda e scegliere anche in base a quello. Io lavoro con retaggi del passato, budget trouvée, monete, medaglie, cammei, e le inserisco in nuove dimensioni, in nuovi progetti, dando vita a gioielli che trasmettono la memoria, però in un contesto moderno. Le mie ispirazioni sono il mare, il mare in cui io sono nata, quindi i coralli, gli abissi, le conchiglie, le stelle marine, e anche la natura, e quindi questi ramarri, queste lucercole, il bosco, il verde, tutto ciò che è naturale e che dobbiamo veramente essere attenti a preservare. Corretto, rappresentano proprio un po' il percorso, sono 15 anni che ci lavoro nella moda, sono arrivato nel 2000, sono venuto comunque con tanti a lavorare, e a cercare ovviamente un po' come quando si migra normalmente, per migliorare un po' quello che è la propria vita e magari arrivare a dei sogni. E quindi nel 2002, dopo aver lavorato, ho iniziato a studiare, nel 2005 ho iniziato poi a lavorare, ed oggi abbiamo una bellissima realtà che funziona e ha più di oltre 40 multi brand di vendita nel mondo, quindi è un marchio internazionale a tutte le infezze.